Agli arresti domiciliari, sei appartenenti alla sezione di Polizia Stradale di Taranto, gravemente indiziati in concorso con altri soggetti di più ipotesi di induzione in debita di dare e promettere utilità in relazione a fatti commessi nel territorio nel periodo compreso tra i mesi di luglio e ottobre 2016. Secondo l'accusa, gli indagati, abusando della qualità e dei poteri di appartenenti alle forze dell'ordine nel corso della loro attività di controllo della circolazione stradale, inducevano diversi conducenti di auto articolati e rimorchi a corrispondere loro somme di denaro non dovute, omettendo di elevare verbali di contestazione per violazioni al codice della strada. Gli stessi conducenti sono indagati per la medesima condotta, ovvero per avere, seppure indotti, promesso e dato le utilità richieste. L'indagine aveva preso avvio a seguito di una telefonata anonima giunta alla sala operativa della questura di Taranto, nel corso della quale un ignoto segnalava la presenza sulla statale 100 in direzione Bari di un equipaggio della polizia stradale intento a caricare nel bagagliaio dell'auto di servizio, post a fari spenti sul ciglio della strada, alcune casse di pesce prelevate dall'interno di un furgone per il trasporto di prodotti ittici, fermato per un controllo. Alla luce di questa segnalazione, i dirigenti della squadra mobile del compartimento della polizia stradale di Taranto hanno deciso di predisporre dei servizi di osservazione e controllo, che hanno consentito di rilevare e videoregistrare in almeno due occasioni l'effettiva consegna di banconote da parte di conducenti di mezzi pesanti sottoposti a controllo dall'equipaggio della stradale, verso cui erano maturati i sospetti. Gli indagati hanno peraltro maturato nel tempo la convinzione di essere sottoposti a controllo, riuscendo pure ad accertare la presenza degli impianti di monitoraggio installati all'interno delle vetture utilizzate per il pattugliamento delle strade. Hanno così iniziato a cercare di acquisire ulteriori informazioni su quanto fosse già noto agli inquirenti, addossando la responsabilità della denuncia al loro carico ai vertici del loro ufficio di appartenenza e della questura, pianificando non solo un'attività di boicottaggio dei servizi tecnici, ma anche una serie di azioni ritorsive e denigratorie nei confronti dei colleghi che stavano indagando sul loro conto. E nonostante la certezza dell'esistenza di investigazioni al loro carico, gli indagati hanno manifestato sfrontatezza nel reiterare con disinvoltura i delitti loro addebitati, seppure ricorrendo all'adozione di maggiori cautele.